A un certo punto nei film della Marvel si riuniscono tutti, tutte le serie, tutti i film che hanno fatto della Marvel c'è una scena in cui arrivano tutti, anche quelli morti, resuscitati eccetera che ho detto senti, ma perché non prendiamo il Libano, il freddo, quelli di Gomorra, quelli di Suburra, quelli del Firm tu pensa che ne so, una scena con Pierfrancesco Favino che fa il Libano, che incontra Francesco Montanari che fa il Libano Kim Rossi Stewart che fa il freddo, con me che faccio il freddo, con Santa Maria che litiga, con Alessandro Roia sui dandi migliori, con quelli di Gomorra che arrivano e dicono no siamo più forti noi, noi spariamo più forti noi levate che comandiamo noi col bufalo che non si sa se è l'autore dei Boris esatto, che esce dalla parte e in certo punto spinge F4 e tutti risentiamo per te Grazie